Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fippi Lecco denuncita la strassigna provenendo da Firenze. In A11 i rallentamenti per mezzi in lento movimento tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. È prevista neve in A1 tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Nevischio in A15 tra Borgotaro e Pontremoli. Nebbia a banchi in A1 tra Rioveggio e Aglio e in A15 tra Berceto e Pontremoli. Sul raccordo Siena-Firenze, chiusura di una corsia per lavori allo svincolo di Bargino in direzione Firenze. Sulla statale 64 Porrettana, fondo stradale dissestato tra Pavana, Pistoiese e Sasso Marconi in entrambe le direzioni. Sulla statale 73 Senese-Retina, senso unico alternato circa 100 metri prima dell'incrocio a Rezzo-Est in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!